Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad un signore che mi ha chiesto che cosa ha a che vedere l'ipnosi con la pubblicità. Do un escursus di storia della pubblicità, ragazzi. Negli anni 60, io ho 52 anni, non so se tu hai la mia stessa età, ma anche se sei giovane puoi afferrare lo stesso il concetto. Quando si rompevano le scarpe, la suola si scollava, i pantaloni si scuscivano, eccetera, eccetera, la mamma o chi per lei o la nonna andavano dal calzolaio a far riparare le scarpe, andavano dal sarto, dalla sarta a far ricucire il vestito, il pantalone, il grembiule, eccetera, eccetera, eccetera. Negli anni 60 però è successo un problema, soprattutto negli Stati Uniti, perché dopo la seconda guerra mondiale, come ben sai, sono gli Stati Uniti che hanno sempre comandato sul mondo intero e sull'Italia, di fatto, e anche se hanno dato la parvenza, come nell'antica Roma, che ogni popolo si autogoverni e comandi da solo. Questa è un'altra illusione di massa, un'altra ipnosi di massa. Allora, che succede? Che negli Stati Uniti, negli anni 60, tra gli anni 50 e 60, il mercato, cioè la gente che comprava prodotti, servizi, eccetera, eccetera, era ormai saturo. Significava, tradotto, che tutti avevano due macchine, due frigoriferi, due cucine, due vestiti, quindi avevano bisogno di allargare il mercato, di scoprire nuovi lidi, ma siccome esisteva il muro di Berlino, la guerra fredda, la Russia, quindi la Cina era chiusa in se stessa e compagnia bella, e avendo lo stesso mercato geografico, vale a dire l'Occidente, si inventarono, che cosa? Si inventarono la creazione, l'installazione di bisogni non reali nella mente delle persone, della tua, della mia, dei nostri antenati, dagli anni 50, 60 ad oggi. Che significa tutto ciò, dottore? Mi ha scritto un altro signore quando gli ho risposto così. Significa che tu, mentre prima, al tempo del calzolaio, della sarta, che trovavi sotto casa, avevi un bisogno reale, reale, significa non mi serve più questo vestito, questo pantalone, questa scarpa, questa macchina, perché non cammina più, me la cambio. Quindi un bisogno funzionale, un bisogno vero. Oggi invece, dagli anni 50 e 60, le multinazionali, avendo manipolato le menti dell'essere umano, tramite la TV, quindi chiamasi prosi di massa, e ripeto, non è soltanto un discorso psicologico, ma anche corporale, mentale e fisico. Perché ogni parola, ogni bisogno, ogni senso di colpo, ogni frustrazione, ogni colpa ricade nel nostro corpo, sul nostro corpo, che tu ne possa pensare o credere. Allora, che succede? Che assuntano queste multinazionali i migliori esperti, psicologi, ipnotisti, psichiatri, mentalisti, esperti di mente, che esistevano in quel momento negli Stati Uniti, per creare bisogni inesistenti nella mente delle persone. E come si creano i bisogni inesistenti, instillati nella mente delle persone, che poi di fatto li fanno stare male, mostrando l'aereo che vola, la sensazione di libertà, mostrando il fuoco, e la famiglia, il nonno, la nonna, il papà, mostrando testimoni all'attori famosi, che toccano quel gattino, quel cibo, quella villa, e compagnia bella, ecco. Oppure quell'autovettura mettendo accanto il pilota più forte del mondo e la modella più bella del mondo, tu hai dentro di te inconsciamente, a livello primordiale, la voglia di essere come loro. Quindi che succede? Se tu non soddisfi queste voglie, ti senti frustrato, frustrata, ti senti in colpa, magari anche quando hai di più di quello che dovresti avere. A parte il fatto che vittime di altre vittime, via di genitori, ci hanno instillato anche questo senso di colpa. però è rafforzato dalla TV, da queste leve emotive che la TV, la pubblicità, ci inculca nella nostra mente. Una volta una signora mi ha detto, dottore, ma io tanto non le guardo neanche le pubblicità, pulisco, asciugo i piatti, non guardo la TV, e io le ho risposto, signora cara, in quel momento entrano più facilmente le suggestioni, quando tu sei distratto, quando tu sei distratta, entrano perché è distratta la coscienza, la logica che Dio ci ha dato, il buon Dio, per difenderci da chi ci possa dire, magari, vai a buttarti nel pozzo e tu come un fesso vai a buttarti. Quindi la coscienza, la logica, la razionalità, che fa parte sempre della nostra mente, che è il 12%, serve per proteggerci. La cosa brutta è il contro, la cosa negativa, e che purtroppo blocca anche le suggestioni positive. esempio, se io dico, non voglio più mangiare, perché sto ingrassando, non voglio più fumare, perché sto esagerando, non voglio più ubriacarmi, perché so che mi fa male, c'è qualcosa dentro di te, nel tuo subcosciente, l'88% della tua mente, che ti blocca. Oppure, quando stai facendo sesso, fai l'amore con la tua ragazza, con il tuo partner, la tua partner, che succede? Vuoi rendere di più, però c'è qualcosa più forte di te, che ti blocca. Se tu non togli quella cosa più forte di te, dal tuo subcosciente, dal tuo pilota automatico, che può essere instillato anche dai film, dai poteri forti, dalla pubblicità, e compagnia bella, hai voglia di dire, montagna, spostati, la montagna non si sposterà mai, ok? Non lo dice un fantaguro, ragazzi, lo dice chi, nel suo profondo, da dieci anni a sta parte, ha sperimentato, e sperimenta, e si auto-ipnotizza H24, sul proprio corpo, la propria vita, e su centinaia e centinaia di persone in Italia all'estero, quindi sto parlando con dati di fatto, poi se non ti bastasse la mia parola, vai su riviste accreditate, scientifiche, internazionali, come Lancet, Life, ed altre riviste accreditate, vedi che cosa dicono sull'ipnosi vera e professionale, con la V maiuscola, a me la cosa buffa, è quando vedo gente, parenti e non, che alzano gli occhi, si girano dall'altra parte, hanno paura, li capisco sinceramente, perché anch'io tanto tanto tempo fa, quando ero uno studente lavoratore, senza una lira in tasca, se tu mi avessi parlato di certe materie, mi sarei girato, avrei alzato i tacchi, e me ne sarei andato via, ti capisco, però santo Dio, siamo nel 2020, tra un po', cerca di documentarti, approfondisci, e scarta tutta quell'ipnosi paura, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, che non ha nulla a che vedere, con l'ipnosi vera e professionale, tu considera che l'ipnosi, esista anche l'ipnosi medica, che utilizzano, che la utilizzano i medici, negli ospedali, per anestetizzare, come è uscito anche un bel servizio, su Voyager, del dottor Facco, se vai su internet, lo trovi su YouTube, un medico anestesista, dell'università di Padova, che anestetizza una signora, e dopo la opera, grazie all'anestesia, perché è intollerante ai farmaci, dell'anestesia, del cloroforme, eccetera, eccetera, la operano a un tumore, sulla gamba, di 8 cm, allora ti faccio una domanda, se l'ipnosi, viene usata negli ospedali, per anestetizzare, per eliminare il dolore, come se tu premessi off, oppure on, tu immagina cosa può fare, questo computer, il più grande dell'universo, anche non solo, nel dolore, nella mente, nel corpo, nella vita visibile, invisibile, in tutto ciò che desideri, che vuoi raggiungere, che vuoi fare, e non fare, ok, non ha limiti, te lo dice uno, che le ha vissute, le sta vivendo, e grazie all'ipnosi, ho superato anche la crisi del 2008, una crisi incredibile, che ha ammazzato tanta gente, in tutto il mondo, ok, perché se non lo sai, io ho tantissime attività, in Italia e all'estero, per cui, se sono qui, a tra virgolette, mettere la mia faccia, non lo faccio, per un tornaconto personale, che ci potrebbe anche stare, perché non sputo nel piatto in cui mangio, però, voglio pubblicizzare, il metodo di CS, il mio metodo di ipnosi, o di ipnosi, vera e professionale, la mia associazione, ipnologi associati, Los Angeles, perché è un'ipnosi diversa, da tutto ciò che si vede in giro, e che ha degli effetti perenni e duraturi, ragazzi, ok, ecco la mia missione, la mia mission, finché sono su questa terra, e anche chi si occupa di salute, e vuole imparare il mio metodo, mi può scrivere, perché no, io non ho nessuna, però attenzione, non è il metodo che si vede in giro, il metodo dell'ipnosi conformista e commerciale, ti faccio degli esempi banalissimi, e la mia associazione ha trattato, e tratta casi, che è composta, ripeto ancora una volta, da ipnotisti, medici, psicoterapeuti, psicologi, anche di operatori non sanitari e sanitari, di caratura internazionale, e non soltanto Los Angeles, bene, hanno affrontato casi di autismo, di epilessia, di paralisi, di ictus, di Alzheimer, di Parkinson, con l'ipnosi vera e professionale, e non credere alle mie parole, vai su internet, ripeto, va a vedere i video della dottoressa Rina Brunini, del professor Miguel Angel Garai, che li trovi su YouTube, su internet, gente che ha operato sul campo H24, io sono il loro, diciamo, delfino, un loro associato, un loro certificato, professionista dell'ipnosi, ho conseguito un master presso di loro, sono un PHD, eccetera, 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 per cui, trattando, ho iniziato veramente mettendo le mani in pasta, con il caso di mio padre, che ha avuto un ictus, fulminante per la metà, la parte destra, non si muoveva più, non ascoltava, non vedeva, era praticamente paralizzato, e come racconto, ho scritto in tutto il mondo, la dottoressa Brunini, nel 2008, mi rispose, sì, trattiamo casi di ipnosi, con l'ipnosi, mentre tanti guru, anche molto blasonati, di tutto il mondo, rispondevano in italiano, in inglese, in francese, no, no, non si può fare nulla, no, non si può fare nulla, nel 2008, quando, è tutto online, addirittura abbiamo fatto con la dottoressa Brunini, con il sottoscritto, che ho fatto assistente per due anni, veramente ragazzi, delle esperienze, delle storie vissute, come ripeto sempre, per capirle, bisogna viverle, ecco, la mia missione è trasferire quello che so, ci ho messo dieci anni, per mettermi davanti a questi schermi, a te che mi ascolti, perché voglio veramente dare una chance in più, a tutta la gente di buona volontà, poi, chi ha paura, chi non osa, chi si gira dall'altra parte, chi, quando vede un guru, oppure, blasonato, iperdecorato, che dice, non si può fare nulla, si arrende, bene, questa gente non è fatta per me, naturalmente, ok, segua la sua vita, chi crede nel destino, segua il suo destino, io penso che il destino lo crei il nostro subcosciente, la nostra mente profonda, e la cosa, la notizia bella, è che possiamo agire con l'ipnosi vera e professionale, sulla nostra mente, per cambiare il nostro destino, cosiddetto, e come diceva il grandissimo Carl Jung, per alcuni Carl Jung, uno psicoterapeuta, psichiatra tedesco, ipnotista oltretutto, diceva, rendi cosciente l'inconscio, perché altrimenti sarà il tuo inconscio, a guidare la tua vita, e tu lo chiamerai destino, rifletti su queste parole, sono verississime, ok, non credere a nessuna parola del sottoscritto, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, gratis, sei dubbi, incertezze, perplessità, scrivimi a ipnologi associati, che ho, c'è la libro.it, e il sottoscritto, oppure uno dei miei collaboratori, sempre, eh, coadiuvati dal sottoscritto, ti risponderanno, compatibilmente, con i miei tempi, e con i miei impegni, se mi trovo io, risponderò io, personalmente, a tutti i tuoi quesiti, è gratis, gratis, ok, io di solito, quando faccio consulenza ipnotica, eccetera, eccetera, mi pago, per non dire strapago, perché, eh, però, ehm, sto dando valore in questi audio, in questi video, gratuiti, perché la mia missione non è quella di fare soldi, perché grazie a Dio sto bene per le prossime 20 vite, eh, senza falsa modestia, perché è inutile girarci attorno, lo faccio per sdoganare, provarci, perché no, perché nella storia hanno provato tanti, a sdoganare l'ipnosi, e pochi ci sono riusciti, diciamo che l'ipnosi è stata riconosciuta, nel 1958, dall'Associazione Medica Mondiale, come medicina alternativa, e dalla Chiesa, nel 1847, con Papa Pio IX, però, ancora oggi, nel 2020, tra un po', eh, su 100 medici, 100 psicologi, 100 psicoterapeuti, a livello internazionale, mondiale, anche italiano, soltanto uno conosce la parola ipnosi, e la prova del 9, è che non esiste una specializzazione in medicina, io ho tanti amici, medici, psichiatri, eccetera, tradizionali, che quando sentono la parola ipnosi, alzano gli occhi al cielo, e pensano subito a Giucas Casella, come facevo io tantissimi anni fa, eppure gli dimostri con i fatti, che non è così, e continuano a stare sotto l'effetto dell'incantesimo, dell'ipnosi di Masso, ok? La mente è potente, ragazzi, da cui scaturisce anche l'effetto placebo, se non conosci cos'è l'effetto placebo, l'effetto nocebo, vai, documentati su Wikipedia, su altre fonti accreditate, ok? Adesso stoppo, perché sono andato pure oltre, non ti voglio tediare, fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet, www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fa share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, che gli può cambiare veramente, ripeto veramente la vita, come è successo a me, ai miei cari, diciamo ad una parte dei miei cari, perché gli altri non ne vogliono sapere, siamo oresti, e a centinaia e centinaia di persone in Italia e all'estero, e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS, e conclusione delle conclusioni a chi è nel campo, nel mondo dell'ipnosi, anche conformista e commerciale, vi prego, cercate di scrivermi anche voi, e capire com'è questo metodo, che deriva direttamente da Los Angeles, dalla dottoressa Rina Brunini, dal professor dottor Michelangher-Grai, che ha trattato e tratta casi veramente impossibili, per gli altri che sono anche nel mondo dell'ipnosi, casi veramente gravi, che non vedete nessun libro, né scritto, né visto, e a prescindere dal mio metodo, metodo di CS, parlo ai professionisti dell'ipnosi, anche conformista e commerciale, bisogna insistere di più, per rendere al pubblico, alla massa, al popolo, l'ipnosi come tecnica, come la meditazione, come lo yoga, per aiutarli ad eliminare, cancellare, non accettare, né accogliere, né sopportare le sofferenze, come la tristezza, le paure, l'odio, la mancanza di perdono, i tradimenti, e compagnia bella, l'ipnosi è veramente uno strumento potentissimo, un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, e al prossimo video.